La stanza è buia, c'è odore di sigarette, spente, accese mille volte. Stai seduto in un angolo, mi dai le spalle, io in piedi a pochi metri, silenzio. Ti passi una mano sul cranio lucido, poi come fai tu, ti volti appena, mi guardi, i tuoi occhi brillano di una luce violenta. Vieni vicino, riduci la distanza con quel modo che hai di arrivare ad un centimetro dal volto, il collo proteso in avanti, vorrei dirti tante cose, abbracciarti forse, ma so che non posso nulla, sei tu il protagonista, il tuo sguardo è duro come se mi rimproverassi qualcosa, poi di improvviso sorridi, mi dai due piccoli buffetti sul volto. Fu bravo, mi dici, poi cammini fino alla porta, la apri e te la chiudi alle spalle senza voltarti. Addici tu. Addici tu.